buonasera ragazzi e buonasera a tutti vedo già tanta gente in chat buonasera come va? spero tutto bene e purtroppo non ho aggiornato ancora questo comparto qui quindi stasera si vede, ho tolto il green screen ho messo un'altra parte però a breve avrò un altro mobile qui quindi non vi preoccupate, non sarete costretti a vedere questo casino qua dietro comunque ragazzi, buonasera a tutti siamo di nuovo qui con un nuovo episodio anzi, una nuova lezione di lingue elfiche in questo caso stasera torneremo ancora una volta sul Kenya sarà comunque uno dei principali linguaggi che affronteremo sono il principale che affronteremo durante questo corso quindi questa sera si andrà ancora più in profondità nel Kenya in modo particolare andando a io già so gli argomenti a grandi linee andremo ad approfondire anche i verbi quindi iniziamo a entrare veramente molto nel concreto di questo bellissimo linguaggio e ovviamente non solo, a breve vi presento, vi introdurrò il nostro professore vengo a salutarvi per prima buonasera oscuro ciao la mia Kelly la mia Kelly che è a letto con i cuccioli ha fatto la cucciolata la mia Kelly Davide, buonasera Isola di Roccia del Drago buonasera ragazzi bello sorio Fabio, Altariel ciao ciao ragazzi ciao Luca buonasera signore e signori mi raccomando fatevi bravi e se lo dice scuro signore ragazzi vi consiglio di ascoltarlo l'immagine è presa oggi un commento sì esatto è presa direttamente da uno dei testi del nostro prof quindi aspettate che come sempre ve li prendo però prima vi introduco il prof ovviamente buonasera prof buonasera ciao a tutti perfetto allora sta andando bene sta andando bene come sapete questo purtroppo questo corso sta avendo ogni volta un problema o di audio o di video o di connessione oggi dopo una come dire dopo esserci rodati per mesi oggi a quanto pare per ora la cosa va molto bene nel senso che sentiamo e ascoltiamo sentiamo e vediamo il professore senza alcun problema quindi magari questa è la volta buona che veramente riusciamo a farci una lezione perfetta magari magari le altre volte c'è sempre un problema stasera magari ci riusciamo non lo diciamo troppo lo dico solo adesso ma magari purtroppo siamo sfigati non lo so comunque prof buonasera bentornato buonasera diciamo che sì abbiamo provato mesi però un giorno al mese quindi non è che abbiamo avuto tutto questo tempo per fare tentativi e fallirli miseramente ovviamente però siamo la dimostrazione che poi sbagliando che poi sbagliando non era colpa né del professore né del sottoscritto semplicemente capitavano problemi tecnici inaspettati però provando e riprovando alla fine ci si riesce ripeto incrociamo le dita incrociamo le dita che alcuni di voi incrociamo le dita sotto le altre live giustamente avete scritto l'audio a qualche problema lo sappiamo ragazzi ci rendiamo conto anche le scorse live infatti rimanevamo sempre dopo qualche minuto in off live per cercare di risolvere ogni volta quel problema quindi ogni volta è stato un feedback importante per risolvere i vari problemi che si sono susseguiti durante le scorse elezioni quindi da adesso speriamo adesso in poi che le elezioni saranno perfette dal punto di vista tecnico e allora vengo ancora a salutarvi sono ancora moderatore certo a Gianmarco io non mi ho cambiato in alcun modo nel caso di collego ti do una mano Gianmarco buonasera buonasera siete tutti sempre i moderatori nessuno è stato licenziato non vi preoccupate meno male meno male oggi mi metto in forma del studio lingua elfica infatti mancava da un po' che siamo stati un po' impegnati sia io che il prof e prof buon anno e buon Natale altrettanto impegnati per quanto mi riguarda anche malato perché due settimane fa è saltata a causa covid esatto dopo tutto questo periodo è toccato pure a me avremmo dovuto fare questa lezione il 13 gennaio però il nostro prof era malato e ho detto non si preoccupa respiravo con le orecchie ancora quindi non sarebbe avremmo avuto problemi di audio ma per cause fisiologiche non tecniche la capisco prof io ormai questa influenza almeno una volta al mese mi torna quindi arca boia pesante sì quest'anno è brutta scusate ma si possono raccontare barzellette in quenia non lo so ci sono barzellette in quenia però mi sape no nei testi ufficiali che ho collezionato io no il lessico purtroppo è talmente esiguo che come barzellette se anche fosse possibile dovremmo rimanere proprio su qualche cosa di elementare tipo una roba da tre parole esatto va bene prof allora io direi di iniziare volevo far vedere i testi dovrei averli se sono proprio in libreria un attimo solo che li prendo così vi facciamo vedere come è tempo una piccola parentesi così per per orientare non più i vostri regali di Natale magari quelli di San Valentino ecco visto che è la prossima ricorrenza così a sfondo commerciale che ci aspetta mi rendo conto che magari possano esserci cose un po' più romantiche però può essere romantico anche un testo un paio di testi che permettono di appiccicare l'alto elfico il grigio elfico come sempre intrattenevo un po' mentre ti si vedevano le terche grazie ma prof ormai è diventato più bravo di me a gestire il pubblico qui tanto di cappello e di cuffie comunque ragazzi questi sono i testi come sempre del prof le lingue degli elfi della tre e mezzo volume 1 ecco qua e volume 2 eccoli qua infatti come vedete l'immagine della copertina che sarà l'immagine ufficiale dedicata alla lingua elfica è questa qui quella presa direttamente dalla copertina del volume 1 del nostro prof vi trovate ovviamente su Amazon mi raccomando recuperateli io sono arrivato a circa un quarto del secondo volume oh no alla metà più o meno e sto seguendo queste sto leggendo man mano che andiamo avanti con il corso così lo sto godendo ancora di più e consiglio di fare lo stesso perché comunque il libro di testo come potete immaginare è abbastanza importante beh c'è molta più roba di quella che riusciamo a dire naturalmente qui in queste dirette che sono più agili più fruibili tutto quello che vuoi ma forzatamente sono anche un pelino meno complete anche perché c'è un libro chi lo compra ma io consiglio ai nostri amici a casa più che altro è una cosa che già abbiamo detto però fate una cosa il mio consiglio è questo quello che io sto facendo io stesso anticipatevi l'argomento successivo che bene o male è riuscito ad intuirlo dalla programmazione o magari leggetevi proprio il libro e segnatevi gli argomenti che magari non siete riusciti ad afferrare pienamente dopodiché aspettate la lezione specifica e fate una domanda al professore cioè avete la possibilità di fare una domanda non solo ovviamente a un esperto o uno dei massimi esperti a livello mondiale ma all'autore del libro quindi meglio di così penso ma eh Gianluca sei stato pure chiamato da Amazon scusami eh voglio dire non è che non è che chiamavano uno l'esperto italiano hanno chiamato uno dei maggiori esperti a livello mondiale anche perché io di testi come acqui di questo livello anche in lingua inglese non è che ne ho visti tanti ce ne sono ma ne sono pochi a maggior ragione in lingua italiana non ce ne sono questo lo so molto bene perché per tanto tempo io li ho cercati in passato quindi fate così ovviamente se ancora non l'avete fatto prendetevi i testi leggeteli segnatevi le cose che non siete riusciti ad afferrare dato che comunque l'argomento è ostico dopodiché aspettate la lezione avete la possibilità di fare una domanda al nostro professore quindi questo secondo me potrebbe essere il medono migliore per usufruire non solo dei testi ma anche del corso che noi stiamo portando avanti qui sul canale non solo adesso ma anche in futuro e va bene allora prof mi dica lei se devo mettere già da adesso il slide o no sì mettiamole perché stasera aiutano visto che parliamo di verbi iniziamo appunto ad entrare pienamente nel discorso verbi quenia non è complesso come i casi o come le disidenze pronominali però è già un argomentino che richiede un minimo di come dire di attenzione specifica puntata e un po' di predisposizione a incasellare tutte le nozioni va bene quindi quale metto il vecchio ordinamento il vecchio il vecchio slide le vecchie slide vecchio ordinamento pagina 18 regia vecchio ordinamento pagina 18 eccola qua la copula la copula non quella non quella ragazzi non quella da doppio senso rimaniamo rigorosamente in ambito grammaticale naturalmente naturalmente non intendiamo niente di scabroso bensì quel quell'orpello quell'attrezzo che ci serve nell'ambito grammaticale ovviamente di costruzione della frase per connettere fra di loro un sostantivo un aggettivo il soggetto al predicato insomma ci vuole questa questa funzione che è estremamente importante estremamente di base tutti noi usiamo il verbo essere nel comporre una frase la tal cosa è in tal modo la tal persona è eccetera eccetera quindi pensate alle centinaia di volte in cui quotidianamente ricorrete a questo tipo di costruzione il quenia non fa eccezione anche il quenia ha una sua copula che come per per quanto riguarda le lingue che parliamo normalmente quindi l'italiano come lingua madre oppure lingue straniere anche l'inglese così è una coniugazione comunque del verbo essere coniugazione che può essere il presente al passato al singolare al plurale ovviamente dipendentemente dalla frase e qui naturalmente ne ho riportato un paio ecco il verbo essere per parecchio tempo è rimasto il mistero dei misteri perché non c'era assolutamente nessun tipo di indicazione da parte di tolkien se non qualche rara occorrenza di questo fantomatico na poi col tempo invece ne è uscito un paradigma praticamente completo adesso sappiamo molto non tutto ma molto del verbo essere quenia e il mistero è rimasto sul verbo essere sindarin dove invece abbiamo molte meno cose da dire molte più cose da immaginare quindi ecco due semplici frasette che sono qui in calce alla slide alasaila na non è saggio alasaila è una costruzione che vuol dire proprio non saggio nel senso che c'è la prima parte che è contraddistinta da quell'ala da quell'a privativo che è un prefisso che inquinista per no non saila che non è una carmella bensì è l'aggettivo saggio proprio poi se vogliamo cominciare ad affrontare qualche frase un po' più significativa i cavalli dei Roirrim sono buoni mare non vuol dire buoni in senso culinario cioè come preparazione gastronomica vuol dire buoni nel senso che sono dei validi animali da sella e questo si sa perché a parte la la cavalleria numeroreale di cui mi ha avuto un piccolo assaggio forse troppo piccolo nella serie televisiva l'altra grande mitica mitologica cavalleria della terza è naturalmente quella di Rohan e allora gli alti elfi come avrebbero detto oppure i sapienti gonduriani Roccor I e Rulingaron mare nar Roccor cavalli plurale con il contrasivo dall'erre finale I e Rulingaron sono i roirrim notate che erulingaron sarebbero i roirrim in questo esatto bellissimo esatto scusami scusi prof quel eru quello eru erulingaron è riferito a un qualche tipo di riferimento a eru il uvatar o ha un altro significato quella desinenza t'arrivo subito la musicalità non manca mai sì esatto bellissimo tra l'altro Roccor I e Rulingaron mare nar bellissimo sì ecco ti faccio una leggerissima correzione perché la R è sempre trillante non è mai anglosassone c'è sempre una bella r e io non la riesco a dire ho sempre avuto sto problema non riesco a fare r arcaboy è per quello che arroti un po' sì ho un po' la R moscia vale fiero è lo stesso problema che a Tolkien quando leggi le Namarie ok prego prego allora guarda non ha nessun riferimento all'essere divino perché è semplicemente una resa fonetica di Eorlingas ok il che crea un piccolo cortocircuito perché a voler ben guardare Eorlingas non è roirrico in senso stretto è antico inglese quindi diciamo Tolkien in un primo momento mette giù questa traduzione fonetica poi dopo fa questa riflessione dice a caspita o magari qualche altra che so esclamazione inglese un po' più fiorita a ben guardare Eorlingas è la traduzione che ho usato io ma non è la parola in lingua di Rowan che avrebbero usato Iroirrim che per la cronaca sarebbe Forunachim nell'ultimo Parmel d'Alamberon però appunto la frase che ci è pervenuta dagli appunti tuechiani contiene questo Eorlingaron che è un plurale perché il signore sarebbe Eorlingar che appunto è la trasposizione quasi fonetica quindi proprio una queniarizzazione paro paro dall'antico inglese Eorlingas e pertanto niente non ha un'etimologia elfica tutto qua se non ci sono domande potremmo passare alla slide successiva perché poi sulla copola una volta compresa che cos'è come funziona non c'è moltissimo altro una domanda da Malinur ma Eorlingas non viene da Eorl sembrerebbe allora avrebbe anche un senso volendo qui dobbiamo anticipare i tempi e andare a riferirci al libro che non ho ancora scritto sulle lingue non elfiche e allora evitiamo evitiamo sta studiando anche l'adunanico Oddio prima o poi dovremmo occuparci nel senso che adesso usciamo con le lingue elfiche poi dopo vedremo finalmente di mettere fuori questo benedetto lessico non voglio chiamare il vocabolario perché tale non è dopo finalmente potremo occuparci anche della parte introduttiva delle lingue non elfiche che sono di più ma c'è molto meno da dire pertanto si farà molto prima va bene andiamo avanti allora andiamo avanti no però è giusto rispondere però ecco su questo non so di preciso se Eorlingas è collegato a Eorl o Eorl è collegato a Eorlingas naturalmente il collegamento viene da Eorl proprio diciamo Eorlingas traduce Roirrim è finito qui e non si sa molto più di questo pertanto sì è sicuramente ipotizzabile che il legame sia quello che venga da Eorl è ovvio ma benissimo per il momento ci accontentiamo di questo e rimaniamo sull'elfico vado avanti andiamo avanti ecco perché ecco qui tempi e modi verbali abbiamo visto due diciamo esempi in cui il verbo essere il na usato come copula è al presente i tempi verbali però sono un po' di più naturalmente in quenia ne abbiamo cinque presente Aoristo passato perfetto futuro non sono tanti non sono pochi probabilmente quantomeno nella mente di Tolkien ce ne erano di più non è stato possibile codificarli tutti questi qualora fossero diciamo pienamente definiti da un punto di vista di documentazione potrebbero già darci modo di mettere insieme un bell'armamentare di possibili soluzioni per scrivere o anche per parlare in alto elfico vedremo che purtroppo non è sempre così soprattutto per il futuro sono più le zone d'ombra che le zone di luce però farebbero molto comodo altri tempi verbali non ci sono per quanto riguarda i modi l'indicativo l'infinito il gerundio il participio l'imperativo e un modo rarissimamente usato che è lottativo anche qui vale lo stesso discorso fin qua non abbiamo detto niente di trascendentale abbiamo visto soltanto un pochettino le dimensioni del campo in cui andiamo a giocare fondamentalmente è chiaro che il grosso si gioca su presente a oristo passato e futuro in certa misura soprattutto per quanto riguarda la distinzione presente a oristo che adesso andremo a vedere ma funziona praticamente come per le lingue antiche che molti studiano al liceo o all'università pertanto non ha delle sorprese in serbo per noi a parte queste domande? no sì forse un paio un attimo solo più che altro un commento lauristo come in greco antico mi riporta ai tempi del liceo classico ecco allora recupera i tempi del liceo classico perché sicuramente dovremo tornare già si stanno mettendo le mani nei capelli i nostri amici Davide dice già vederlo così è complicato dal greco con le mani nei capelli però allora sia il greco che io trovo affascinante anche il greco da appassionato di storia e di lingue antiche per quanto ne sappia molto poco però mi piace sempre poterne parlare poterne studiare più che altro Alfredo ci sono gli stessi del greco antico o sbaglio? ci chiede lui beh l'ispirazione è evidente d'altronde chiaramente per chi ha un po' di dimestichezza con le lingue il Quenia deve dare un'impressione di arcaicità di antichità proprio deve essere una lingua che ha un retaggio plurimillenario e come lo dà? lo dà mettendo in scena mettendo in campo dei tempi verbali che sono tipici delle lingue antiche comunque ricorderei che l'abbiamo detto in tempi non sospetti con le due grandi difficoltà una per ciascuno delle principali lingue eltiche del Quenia sicuramente è la grammatica del Sindarin sarà la fonetica e quando faremo la fonetica Sindarin rimpiangerete la grammatica Quenia quindi aspettate di sperarvi che è ancora presto grazie prof per questo ora abbiamo tanta speranza grazie no per un motivo molto semplice che i principali spedienti fonetici del Sindarin sono tutti mutuati da quelli delle lingue dell'isola del nord lingue che c'è il togallesi compagnia cantante quindi principalmente consuetudini che si sviluppano parlando le lingue del ramo germanico cui noi non siamo assolutamente a sue fatti perché noi siamo latini siamo degli europei meridionali quindi più orientati alla cultura classica che non è quella nordica ma arriveremo anche a quella non c'è scoglio che non possa essere arginato va bene prof vado avanti avanti perché dopo i tempi e i modi un'altra classici classi o gruppi classi o gruppi esatto l'altra caratteristica dei verbi quenia è che si possono fare dei raggruppamenti i principali sono tre ma dei principali i principali a loro volta sono due verbi di base o verbi primari e le cosiddette radicina i verbi di base sono i più carini i più simpatici perché sostanzialmente sono pari pari la trasposizione in buona grammatica della radice etimologica da cui pericolio tragano il loro significato e qui gli esempi si possono leggere ne ho fatti alcuni che sono i più tipici car fare con la sua bella radice etimologica che è la stessa ricordiamo che il suono k e il suono c sono uguali in elfico perché sono entrambi mat che è mangiare e tool che è venire anche qui non in senso scabroso ma in senso proprio topologico di venire in nostra direzione venire da nostra parte quanti doppi sensi ci sono stasera in questa lezione ma è perché siamo un popolo malissimo fondamentalmente è bello invece le lingue elfiche nonostante tutto sono lingue che sono un pochettino più in purezza di quelle che siamo da drive-in in poi la nostra generazione rovinata il secondo gruppo è sicuramente più interessante dal punto di vista grammaticale e ha qualche particolarità in più a cui bisogna fare attenzione soprattutto poi quando si vanno a a posizionare tutti gli elementi per aggiungere desinenze quindi coniugare in base ai tempi fare singolare e plurale così perché alla radice etimologica del verbo in questo caso si aggiunge una una seconda sillaba tipicamente ta che ha come vocale finale a per questo questi verbi prendono il nome oltre che di verbi derivati perché derivano da una radice anche come radici in a perché sono radici che in qualche modo vengono fatte terminate nella vocale a tutto qua il che può essere un vantaggio perché avere una vocale finale piuttosto che una consonante è un qualche cosa che sicuramente agevola l'annessione di desinenze oppure la formazione di particolari tempi e modi però c'è questa sillabina in più con cui fare i conti e anche qui abbiamo gli esempi più comuni da tool venire se noi lo aggiungiamo rafforziamo il concetto e otteniamo convocare cioè tu vieni perché ti convono tutta oppure vengo portando di qualcosa tullia in questo caso ci cambia leggermente la la sillaba con la finale il famoso anta che vedremo in varie salse che vuol dire appunto dare e basta e non c'è nient'altro da dire se non che questo famoso terzo gruppo in realtà si chiama gruppo se proprio vogliamo andare a caratterizzarlo perché ormai vogliamo incasellare tutto ma sono in realtà dei verbi che non ricadono in queste due casistiche più definite più specifiche sono veramente pochissimi per cui non so se si possono chiamare gruppi voi ricordate i verbi primari i verbi di base e i verbi derivati o radicina sono quelli più diciamo ampiamente presenti nel lessico quenia sono quelli con cui si ha più spesso a che fare gli altri sono forme irregolari con i quali giocheremo e vedremo di divertirci sfruttando a nostro vantaggio le loro irregolarità poi appunto l'ultima riga di questa slide definisce un po' quelle che siano le abitudini perverse di certi studiosi classificatori particolarmente versati nell'esasperazione grammaticale ogni gruppo di verbo si può a sua volta suddividere in sottoclassi ma è una cosa che vi risparmio perché una volta che sapete questi primi due gruppi appunto come vi ho già detto siete già in grado di riconoscere la maggior parte dei verbi quelli che si usano più frequentemente quindi anche qui è proprio finora è nozionismo puro da tenere presente però quindi se non ci sono dubbi possiamo andare avanti si andiamo avanti prossima slide verbi personali e impersonali si anche qui la mettiamo giù proprio pomposamente con una slide dedicata ma il concetto è assolutamente intuitivo come negli esempi che riporto se io dico non fare una determinata cosa ava care ava è un imperativo negativo care è una forma presente normalissima del verbo fare però quello che in questo caso lo caratterizza come imperativo negativo è la prima particella ava una delle tante forme di negazione quenia che poi saranno meglio elencate e meglio specificate nel lessico ma questa è sicuramente la più comune poi c'è una costruzione che vedremo dopo in una frase che abbiamo già sicuramente anticipato che definisce gli elfi coloro che formano parole con le voci i carir queter o mainen in questo caso i carir coloro che fanno questo carir è trasparentemente un presente plurale del verbo care del verbo fare è evidente che non è personale perché perché non ha nessun nessuna disinenza pronominale non c'è indicato chi è che fa l'azione in questo senso è impersonale concetto totalmente intuitivo diversamente se dico qualcosa come carin che con la disinenza pronominale n che è quella che sta per io voglio dire proprio io faccio e quindi la forma più breve quindi la più condensata quella che si usa più di frequente nel quenia di uso comune in questo caso sì che è personale perché dice che sono io io me che faccio quello che viene dopo naturalmente per fare altri esempi di questo tipo dovremmo assorbirci il paradigma delle disinenze pronominali viene fra un po' perché è noiosetto e complessino c'è più gusto a prendere le visioni quando abbiamo già qualche elemento in più per cominciare ad inserirlo nelle frasi quindi anche qui appunto è un concetto abbastanza lineare non dovrebbe presentare sorprese faccio soltanto una piccola parentesi vedete che Icarir è tradotto coloro che fanno ma in realtà non c'è nulla che assomiglia alla particella che stessa cosa nella frase prima dei cavalli di Rowan Roccor I e Rulingaron vuol dire letteralmente i cavalli in questo caso quindi l'articolo è omesso perché non sono dei cavalli ma sono i cavalli in senso lato I e Rulingaron vuol dire Iro Irim quindi non c'è nulla che assomigli al D non c'è nulla che assomigli alla preposizione di questo perché perché è proprio il tipo di costruzione avete già visto che l'elfico quando può sottintendere sottintende non si fa problemi succede con le preposizioni con le costruzioni genitive che troveremo molto più utilizzate in Sindarin ma che già cominciano a comprare anche in Quenia succede qui con il pronome relativo il che può essere tranquillamente omesso perché tanto si sa che la frase funziona così pertanto quando vi capiterà più avanti di leggere delle frasi Quenia di senso compiuto vedrete che stando la lettera sembra che manchino dei pezzi per dirla proprio brutalmente in realtà non è che mancano sono sottintesi perché non sono funzionali noi in italiano li mettiamo per una questione di completesti perché siamo abituati così gli elfi come avete già avuto modo di toccare con mano non dico che tirano un po' via però tentano di è proprio un approccio diverso alla lingua si tenta di mettere nel parlato nello scritto soltanto gli elementi che sono veramente indispensabili gli altri si sa che nella costruzione logica in qualche modo ci sono quindi non importa specificarli per iscritto o nel parlato e questo è il caso appunto del che del di e di altro che vedremo andando avanti aumentando pian piano la specificità e la complessità di quello che avremo assimilato lezione dopo lezione frank inarca le sopracciglia si no sto qui sto qui stavo stavo vedendo i messaggi allora ah ok ci sono un po' di messaggi vado un attimo solo vi confermo c'è una conferma vi confermo che orlinga significa figli di euro dall'antico inglese euro mobile ok ok poi cioè studiare le lingue di tulki non ha nulla da invidiare al latino per esempio perché dovrebbe esatto dal momento che il quenia proprio ci viene presentato come latino elfico come della mia anzione una delle sue tante perché è proprio la lingua elfica sapienziale quella che viene da lontano nel tempo e che quindi porta con sé il maggior carico di storia di cultura esattamente come il latino per noi è la lingua nobiliare tra gli elfi cioè gli elfi di alto rango parlano ancora del quenia nella trarimezzo sì dopo il bando di single per chi ha letto il Silmarillion per chi non ha letto leggetelo subito a proposito mi scusi proprio perché proprio una delle ultime letture e commento che abbiamo fatto del Silmarillion è una serie che stiamo portando avanti con Paolo Paolo Nardi e Riccardo abbiamo letto proprio il bando di single per i fea noriani per i noldorfea noriani in modo particolare e non per i finarfiani questa è una cosa su cui abbiamo dibattuto per due episodi nel scorso cioè il famoso bando di single e questo prof ne approfitto dato che ne venne fuori come sempre un bel dibattito tra me Paolo e Riccardo al tuo riguardo il punto del dibattito era quanto efficace quanta responsabilità ha effettivamente avuto single nell'impoverimento non nell'impoverimento nella progressiva scomparsa della lingua elf del quenia nel dopo il bando cioè effettivamente è lui che ha dato il colpo di gra ha dato un colpo di grazia a una lingua che era comunque destinata progressivamente a scomparire dalla terra di mezzo perché ricordiamo comunque la lingua di valinor o è stato lui a dare la vera svolta e magari senza quel bando speculazione la lingua la lingua quenia sarebbe magari potuta diventare la lingua principale degli elfi come la vede però principale probabilmente no perché diciamo tra quello che possiamo identificare come il sindarin vero e proprio diciamo le lingue che si parlavano nel doriat che poi nella terza era diventano sindarin e le lingue silvane che comunque sono sempre del ramo del belerian quindi sempre lingue di tipo sindarin anche leggermente diverse i parlanti queste lingue le lingue del belerian erano comunque molti di più e c'è anche il discorso che quando i noldor tornano rompendo clamorosamente con i valer e fanno ritorno in terra di mezzo loro che hanno comunque vissuto in un contesto in cui linguisticamente era più ricco perché il quenia linguisticamente è più ricco c'è poco da fare entrano in contatto con i loro cugini che parlano ormai lingue che hanno preso un loro ramo evolutivo più rapido per tutta una serie di motivi come abbiamo detto nelle lezioni introduttive in oldor a quel punto sono più portati a padroneggiare le lingue del Beleriand di quanto non lo siano i Sindar i Nandor e comunque gli elfi del Beleriand spessi nel sentirli parlare quenia che è una lingua che ormai avevano forse sentito quelli che avevano preso parte alla marcia ma appunto durante quei primi pochissimi secoli poi non l'hanno più sentita per millenni non dico che fanno fatica perché l'elfo è naturalmente portato per le lingue come ormai abbiamo scoperto ma sì fanno più fatica e quindi di fatto si sarebbero comunque formati dei dialetti ma dei dialetti che sarebbero stati più dei dialetti Sindar degli ulteriori dialetti quenia oltre a quello noldorin che era già una forma diversa dal quenia dei Vanyar e comunque dal quenia di Valinor in generale pertanto diciamo probabilmente sarebbe rimasta comunque una lingua di nicchia però avrebbe continuato a circolare e magari sarebbe stata padroneggiata anche da qualche sapiente grigio elfico chi lo sa certo che così viene proprio vietata nell'uso comune viene praticamente relegata a quelle poche enclave di noldor dove era così da parlare senza vederci comparire una freccia in mezzo agli occhi per dire in virtù del bando del reddoriat ok grazie prof se vuole possiamo andare avanti andiamo avanti e cominciamo con i nostri tempi verbali preferiti il presente ecco qui siamo in analogia con l'inglese questo presente è proprio pari pari il present continues cioè un qualcosa di riferito all'azione che si sta svolgendo in questo preciso momento non prendo l'esempio sila a caso perché se ci ricordiamo il celeberlimo saluto con cui Frodo mostra anche con una puntina di orgoglio se vogliamo di essere in grado di padroneggiare almeno parte la lingua dei luminosi una stella brilla sull'ora del nostro incontro cioè questa è l'ora del nostro incontro e qui la stella brilla quindi proprio un presente riferito a quello che sta succedendo in quel momento che è la grande differenza con l'auristo che è un presente atemporale ci arriviamo però intanto teniamo presente che questo presente scusate il gioco di parole è proprio il presente nel senso che è quello che va a identificare l'azione che si sta svolgendo in quel preciso momento in cui viene enunciata in cui viene raccontata vi ricordate della famosa distinzione verbi di base e verbi primari ecco sil è palesemente un verbo di base un verbo primario i verbi primari formano il loro presente con l'aggiunta di una a quindi sila cioè sil non vuol dire nulla sarebbe l'equivalente di quello che noi vediamo nel anzi nemmeno non è nemmeno un infinito non è nemmeno una voce da vocabolario è semplicemente il verbo di base che in sé se non gli mettiamo qualche desinenza non ha alcun senso se gli aggiungiamo invece una semplice desinenza di tempo ecco quel punto prende un senso e però da sil diventa sila notare che la forma di base ha la vocale corta appena aggiungiamo una desinenza la vocale del tema la vocale della radice questo è un concetto con cui dovremmo familiarizzare perché si parlerà molto di vocale della radice anche in una ragione di altre parti del discorso si allunga quell'accentino lo sapete in alto elfico non significa necessariamente accento tonico anche se spesso va a finire come in questo caso va a finire che coincide ma significa semplicemente che la vocale è lunga quindi non è sila ma è sila ci sei Frank? però sì sì però ci sono quando vedi l'accento storto verso la tua destra mentre leggi allunga la vocale infatti è elen sila lumen o mentielvo esatto e anche la u di lumen è lunga se ci fa caso un'introduzione che ho fatto al canale dove io parto proprio parlo dico elen sila lumen o mentielvo io dico proprio sila questa cosa la sapevo la sapevo la sapevo ecco allora per la lode la prossima volta elen sila lumen o mentielvo anche la u è lunga quindi elen sila lumen o mentielvo ok perfetto un altro elfo fatto è finito accidenti è il nostro obiettivo naturalmente aumentare il numero di parlanti elfico quindi non posso che esserne contento se noi facciamo lo stesso giochino di annettere un A alle radici in A che hanno già un A ma volete mai pensare che Tolkien possa concepire una bruttura come due A attaccate assolutamente no quindi per ragioni eufoniche l'eufonia cioè il fatto che le parole suonino gradevoli probabilmente è il concetto di base più importante di tutta la lingua elfica ecco che la prima A quella della radice in A vera e propria diventa una E e quindi quello che sarebbe un A diventa Ea pertanto incitare ora diventa Orea giacere kaita diventa kaitea eccetera eccetera tutte le volte che avrete una radice in A mettere al presente noterete che accade questo non è che vi potessi fare 40 esempi però è chiaro che man mano che incontreremo verbi di un tipo o dell'altro potremo già esercitarci e formare il presente secondo queste linee guida a meno che non venga evidenziato da qualche parte che c'è un'irregolarità però fortunatamente non è qualcosa che capita così di rado andiamo avanti questo è il presente se non ci sono altre domande a questo punto Frank si tocca l'ingrato compito di mentre andiamo con le domande cambiare il file allora faccio la domanda prendo una delle domande una domanda generica in realtà domanda generica ma si sa qualcosa della lingua dei Valar cioè immagino sappiano tutte le lingue ma c'è una loro lingua il Valarine c'è una loro lingua si è dato il Valarine però l'espediente in questo caso qual è? è che i Valar comunque dovendo interloquire con con gli Elio facevano più spesso in Buonquegna questa immagine è bellissima io adoro tutte le volte che c'è un'inquadratura dei due alberi perché è una cosa stupenda prof un'altra domanda giusto andiamo avanti ah no parlano tra di loro era Davide che consiglia il Valarine eccola qui la lingua dei Valarine il linguaggio nero ora capisco perché vi fa scrivere è vera questa cosa? in realtà il linguaggio nero scimmiotta un po' tutte le lingue elfiche non è che ne prendi a bersaglio una e la corrompe deve fare proprio schifo in generale quindi le rare volte in cui prende una parola elfica e la contorge non sta a guardarci si Valarine Quenio Sindarin prende e fa va anche detto che del linguaggio nero abbiamo un paio di frasi quindi non è che possiamo avere una casistica così estesa di tutto quello che viene prelevato da dove però ecco da queste due frasi si capisce una è sicuramente la anche perché è l'unica in linguaggio nero diciamo base nella forma non degradata quindi non quella che parlavano orchetti e varie soldataglie quotidianamente che è una forma ancora più schifosa del linguaggio nero ecco diciamo sicuramente Sauron si sarà divertito anche a deturpare qualcosa del linguaggio nero ma non esclusivamente ok andiamo avanti prego appunto visto che il presente non ha poi tantissimi come dire aspetti astrusi da affrontare il tempo passato e anche qui partiamo con una banalità il tempo passato è quello che si usa per contraddistinguere che un'azione ha avuto luogo nel passato ok abbiamo scoperto l'acqua calda nel passato ma nel momento in cui la si cita la si diciamo le si dà una forma linguistica questa azione è già conclusa quindi non è un non è un passato che è no proprio un passato quando non è è già ho già finito quindi dato che noi abbiamo vari modi di trasporre in italiano questa questo tempo verbale a volte ci torna comodo il passato remoto a volte ci torna comodo l'imperfetto più raramente ci può tornare comodo il passato prossimo questo dipende dal contesto della frase perché le traduzioni non sono mai un automatismo e quindi ci sono certe sfumature che noi rendiamo con un numero di tempi più più ampio più variegato che non la semplice costruzione in questo caso altoelsica però ci sono delle analogie con l'inglese inutile negarlo altronde tolchi il da là veniva e da quello partiamo anche per le lingue elfiche quello che ce lo rende tra virgolette simpatico cos'è? che siccome per quanto riguarda il passato è un concetto su cui il professore è ritornato più e più volte nel corso delle sue lucubrazioni sull'elfico ci sono diversi casi di irregolarità con i quali dovremo fare i conti non è un qualche cosa di così lineare come il presente e naturalmente non abbiamo enunciato i gruppi verbali a caso perché ogni gruppo verbale ha il suo modo di formare il passato altrimenti che lingua elfica sarebbe e se cambiamo slide cominciamo a vedere ad avere così una dimostrazione pratica plastica ecco ora ce l'avete anche voi un attimo che rispondo a un commento diciamo quasi personale però ci tengo a salutare Erwin tutto bene come stanno i cuccioli sono felici di essere grazie per essere con noi stasera i cuccioli stanno bene stanno crescendo poppano sempre dalla tetta della mamma quindi va benissimo così un saluto a te e alla tua famiglia mi raccomando prego prof bene ha fatto piacere anche a me questo aggiornamento naturalmente quindi radici in A quindi verbi derivati in questo caso il fatto di avere una finale gioca molto a nostro favore perché il passato si forma tipicamente annettendo la disidenza né quindi era A la disidenza del presente né quella del passato quindi l'anta cadere se lo vogliamo mettere al passato caduto oppure cadde oppure l'antane vocali tutte brevi in questo caso orta sorgere ortane eccetera 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 in grammatica quelli che sono veramente bravi quindi non il sottoscritto quelli che hanno un pedigree accademico direbbero in questo caso che si tratta di una forma di passato debole perché debole perché la radice non muta il passato si forma semplicemente annettendo la radice così com'è la sua desinenza specifica e queste forme grammaticali si dicono deboli spero che su questo possiamo trovare d'accordo anche coloro che hanno dimestichezza che con studi linguistici del mondo primario insomma perché fondamentalmente questo è un concetto che non ha nulla di rivoluzione ma viene proprio dalla linguistica ordinaria diciamo così per quanto riguarda i verbi primari a volte ci va bene a volte ci va male car il nostro carissimo verbo fare che ormai troveremo spessissimo perché è un esempio proprio tipico da paradigma ha un passato una forma di tempo passato assolutamente lineare carne ci fa venire in mente un concetto diverso ma ma in questo caso vuol dire qualcosa che è stato fatto non qualcosa di fisiologico tur governare regnare tourne eccetera 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 qual è in questo caso o anche nel caso di nem che diventa nemne qual è in questo caso in questi casi anzi la cosa che ci rende così semplice accostare la desinenza del tempo passato il fatto che si formano delle combinazioni di consonante che sono pronunciabili rn mn eccetera eccetera sono non hanno nulla di brutto e quindi le teniamo se invece abbiamo una serie di verbi che come consonante finale hanno la t di torino oppure la p di palermo qui le cose diventerebbero un po' come dire un po' meno palatabili perché quet dire sarebbe quet ne non è elegante non è da lingua bella la lingua bella cosa fa prende questa combinazione grezza tn gli lancia gli casta una spell gli lancia un incantesimo chiamato metatesi vieni a me e questo tn come per magia come per incanto diventa nt e quindi detto oppure dissi diventa quente non quet ne vediamo subito che si tratti di un procedimento opposto a quello che dicevamo prima e in questo caso quindi i verbi primari che abbiamo visto prima formano comunque un passato debole questi invece formano un passato forte perché in qualche modo la metatesi va a mutare proprio quella che è la radice la forma base del verbo quindi in questo caso la grammatica parla di costruzione forte quindi di passato forte la regola qual è? è la regola dell'eufonia quindi come dicevo prima se attaccare la la desidenza né è comodo passato debole e abbiamo già fatto se diventa scomodo metatesi è passato forte chiaro? limpidissimo limpidissimo come l'acqua che sto bevendo perché scusatemi mi serve un po' di raschietto in gola c'è una domanda benissimo così finisco di bere un attimo prof mi perdoni ma il concetto di passato debole ha connessione con il tedesco il quale per declinare i verbi distingue proprio fra deboli e forti io non ho mai studiato il tedesco non so il prof più che una domanda questo mi sembra proprio un dire è così no è una domanda dice invece è una domanda senza punti interrogativo no l'ha messo l'ha messo l'ha messo non l'avevo non l'avevo visto mea culpa no sì io in tenera età ho studiato il tedesco per motivi che non mi sto a enunciare ma sono dovuto andare in una scuola media e quindi poi conseguentemente anche una scuola superiore in cui si studiava tedesco e sì il tedesco ha questa caratteristica però non è una caratteristica sua esclusiva questo concetto appunto di passato forte passato debole comunque in generale di costruzione forte costruzione debole come dicevo prima è un qualche cosa che appunto ha a che fare con la linguistica ordinaria e lo si trova non solo nel tedesco e nel quenia naturalmente grazie caro Aaron per la domanda va bene prego andiamo avanti avanti perché non è finita prossimo slide abbiamo degli altri processi di mutazione di consonante che ci soccorrono può capitare un verbo primario che finisce in L vil volare cosa facciamo vilne no per assimilazione la n della desinenza passata diventa a sua volta una L così abbiamo ville è sicuramente più elegante anche non strettamente da un punto di vista edilizio però sicuramente più eufonico poi ecco abbiamo visto che Orta ha il suo comodissimo passato debole Orta ma neanche un altro forte Oronte questo perché come dicevamo prima siccome sul passato Tolkien ha rimuginato ha passato tanto tempo e tante ore di riflessione a rimuginare sul passato in un certo periodo il passato di Orta è stato Oronte poi è diventato Orta però la forma irregolare è comunque rimasta anche talta cadere ha una forma forte talante e qui a qualcuno potrebbe venire in mente ma atalante no menor sì atalante vuol dire letteralmente la caduta con lei che è caduta e viene appunto da un passato forte del verbo talta cadere però esiste anche la forma debole talta ne accento sulla prima mi raccomando irregolarità come facciamo a sapere niente le dobbiamo sapere anche perché essendo irregolarità diciamo se le vogliamo leggere nel contesto della lingua tra regolette viva sono o forme arcaiche oppure forme di uso particolare letterarie oppure forme più o meno disusate come abbiamo anche in italiano sostanzialmente bisogna conoscerle quando capitano non c'è neanche non c'è da fare molto di più che non procurarsene in qualche modo un elenco oppure quando ci si imbatta in loro cercare la traduzione e vedere appunto a cosa si riferiscono poi abbiamo proprio le irregolarità quelle che abbiamo totalmente fuori dai coppi cioè quelle che sembra che non seguono alcuna logica l'elia andare a un passato che fa lende perché perché era bello così e perché sarebbe stato problematico fare qualsiasi altra forma di costruzione passata Siria fluire a Sirinie Sirinie dove salta fuori perché notate che c'è la semivocale Y che addirittura si sposta dalla radice alla desinenza però da pronunciare sicuramente molto elegante sarete d'accordo con me come sempre prof la l'elia è elegantissima forse suona un po' a volte macchinoso rispetto al Sindarin suona un po' più sincopato meno fluido però è molto elegante più elegante del Sindarin per quanto mi riguarda è più elegante perché diciamo ha un un modo di costruire le parole diciamo una sillabazione più regolare più come dire più ordinaria consonante vocale consonante vocale cioè sembra più ordinato mentre il vocale consonante vocale consonante dà luogo spesso a formi che sembrano un pochettino più più selvagge ma d'altronde è anche ciò che diceva Elge Faustkanger l'autore di Ardalambion colui che ha scatenato tutti i mali che hanno poi portato questa lezione di stasera vent'anni fa dice appunto è abbastanza logico che sia così perché se voi pensate una lingua che si è formata in 3500 anni di pace totale in mezzo a un idilio di luce esseri divini e così invece una lingua che si è formata in un periodo altrettanto uguale di guerre lotte per la sopravvivenza creature dell'ombra che sbucano fuori tutte le parti vita sempre in pericolo insomma è chiaro che quei miei sindarin riflettono un po' il carattere delle zone in cui si sono venute a sviluppare se uno ci pensa e quindi sì è così abbiamo una lingua più codificata e quindi per certi versi leggermente più macchinosa per quanto rimanga sempre melodiosa così è uno degli aspetti per cui il sindarin nonostante sia meno documentato piace di più è proprio questa per questa sua maggiore fluidità questa sua musicalità che sembra più naturale semplicemente perché ha questa fonetica che imparerete a odiare cordialmente quando ne capirete i meccanismi che la rende appunto molto più spontanea eccetera 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 ecco qui se volete sbizzarrirvi a leggere qualche altra irregolarità del passato ecco concludo lo slide dicendo tutti questi casi sono trattati in Parma il 22 che è l'ultimo numero in ordine di tempo l'ultimo finora uscito di questa rivista che edita negli Stati Uniti dal gruppo linguistico che aveva lavorato in passato con Christopher Tolkien per la catalogazione la traduzione la pubblicazione di vari scritti linguistici di Gianno Ronaldo e Tolkien appunto c'erano due testate che loro pubblicavano Vigni Artenguer e Parma e D'Alamberon Parma e D'Alamberon era quello con i contenuti grammaticali e linguistici più densi arrivato al numero 22 appunto e contiene fra le altre varie miniere d'oro che riporta anche queste forme irregolari diamo uno sguardo al futuro visto che siamo già allo scadere dell'ora diciamo un'altra banalità il futuro Quenia naturalmente che per cosa lo usiamo per introdurre nella frase un'azione che non ha ancora avuto luogo nel momento in cui la stiamo enunciando in cui ne stiamo parlando che ve lo dico a fare ma soprattutto per quanto riguarda la copula il futuro può anche assumere una valenza di tipo augurale di auspicio come dire ecco il classico esempio sono gli ultimi versi del Namarie Nai Hiruvalie Valimar dice Dama Galadriel Nai Elie Hiruva quel nai che appunto è una è una forma futura del verbo na quindi della copula è una futura che non è soltanto possa tu un giorno che tu possa un giorno trovare quindi proprio un auspicio che nel futuro ti accada quella cosa lì ma quello è un caso particolare perché normalmente come riporta la slide la desinenza ordinaria per il futuro è uva e anche qui c'è un esempio illustre nella Namarie si man i ulma nane e in quanto va chi riempirà nina in quanto va chi riempirà ora per me la coppa quella in quanto va è il futuro di quanta empire quindi in quanto riempire e in quanto va riempirà per chi conosce le Namarie memorie naturalmente ecco il futuro dà soddisfazione perché è anche più regolare del passato è quasi sempre formato con rarissimissimissime eccezionalmente rare che non me ne sono ancora praticamente imbattuto quindi non ve ne saprei legarne anche una prima che mi mettiati in imbalasso con qualche domanda a cui non potrò darvi risposta diciamo è quasi sempre formato in maniera regolare ci siamo? sì prof avanti dai diamo un'occhiata al Lauristo poi dopo facciamo sfogare qualche domanda e via i saluti finali va bene va bene prego ti può andare l'argomento più ostico Lauristo ostico per modo di dire si tiene presente che appunto il presente è il present continuous Lauristo è il presente atemporale qualche cosa che ha luogo in senso generale l'esempio che piace di più agli studiosi di lingue etiche quindi mi sono fatto andare bene anche io è questo qua che riporto nella slide ore ni acuete nin il mio cuore mi dice ore sta per cuore ma non nel senso di organo fisico proprio di pulsione interiore pensiero interiore quindi proprio un cuore più vicino all'astratto che non al concreto fisiologico nia è la desinenza pronominale per mio quindi ore ni è il mio cuore my heart quete nin dice a me in questo caso quel quete è l'auristo di quet quel quet che abbiamo già visto prima che è appunto dire parlare speak sostanzialmente e questo già ci dice che la desinenza tipica dell'auristo e qui potremo passare anche alla prossima slide è la e la e che viene scritta con i due puntini per far ricordare ai lettori di madre lingua inglese che va pronunciata piena cosa che loro tenderebbero a non fare pronunciando istintivamente come pronunciano in inglese ordinario quindi ordinariamente abbiamo la desinenza e ma se dobbiamo annettere ulteriori desinenze oltre a quella del del tempo verbale questa e diventa una i e l'esempio appunto è quello della frase che abbiamo detto prima l'auristo di fare sarebbe care sempre però abbiamo visto prima che coloro che fanno è i carrier quindi quella e è diventata i perché c'è la desinenza plurale che ci forma il verbo fanno in questo caso formano perché car ha una valenza non soltanto specifica di fare ma anche di forgiare dar forma creare quindi i carrier quetter o ma i sono coloro che fanno che formano parole con le voci le loro voci e questo se vogliamo è proprio un kenning per indicare gli elfi i quali si sa che la loro caratteristica di base parlare parlare si sono svegliati dal loro sonno interno di mezzo prima che vanno cominciare a parlare dare nomi a qualsiasi cosa gli passava quindi proprio il kenning per l'elfo è quello che forma parole con la voce io non aggiungerei altro a meno che non ci siano richieste specifiche allora vediamo un po' ci sono delle domande ovviamente eccala siamo qua allora prof può mostrarci come creare concretamente uno o due frasi in presente o consigliarci degli esercizi da fare nel tempo libero per impratifirci allora qualcosa erwe non so se tu hai testi del prof mi sa di sì se mi ricordo male l'avevi presi qualcosa c'è sul testo su cui esercitarsi comunque prof se ha qualcosa allora devo cambiare appunti quindi continuo a intrattenere i nostri amici intanto che io vado sì leggo qualche commento allora il concetto di lingua bella è percepibile nel quenial in effetti c'è stata una ricerca importante delle sonorità giuste e e vabbè ma parliamo ovviamente di Tolkien quindi sì lui associandolo alla lingua agli elfi che per natura nell'universo turchianiano rappresentano la bellezza lui ha cercato di replicare anche nel loro linguaggio quell'intento quindi una bellezza di linguaggio non a caso invece il linguaggio nero come abbiamo più volte sentito come abbiamo sentito nella stessa trilogia suona veramente duro male antipatico maligno si sente questa è la grande una delle più grandi qualità capacità di Tolkien cioè quello di aver creato dei linguaggi che vanno a rappresentare le specie stesse che parlano quei linguaggi la loro stessa natura vanno a rappresentare questa è una delle cose più belle a cui Tolkien poteva aspirare e ci è riuscito pienamente a me piacerebbe sapere come si dice vai uomo in questo se possibilmente grazie allora vai uomo sarebbe tipo una sorta di è come voler spronare una persona vai uomo questo è un imperativo ci dobbiamo ancora arrivare ci dobbiamo ancora arrivare Davide vai uomo immagino che lui l'abbia preso da Danny Lazzarini che è un famoso youtuber che spopola sia su youtube che su tiktok vai uomo vai uomo sarebbe curioso segniamocela che quando facciamo l'imperativo la diciamo va bene dopodiché allora beh un paio di frasi presenti le abbiamo già ecco diciamo che diventa un po' difficile anche distinguere tra presente e auristo perché spesso e volentieri hai a che fare con delle frasi che anche se noi le concepiamo al presente sono auristo comunque diciamo una tipica frase presente abbiamo visto Matt mangiare quindi l'uomo mangia iatan mata iatan l'uomo mata mangia ok cosina proprio da sussidiario dell'elementare poi vabbè la celeberima elen sila lumen no menti elvo quella è un presente fatto è finito vogliamo farne altre giusto giusto un paio io ne avevo avevo una pagina avevo trovato una pagina per esempio spero che tu possa avere felicità merin sahariali e alasse così ho trovato sì questo però è un quenia è molto arcaico ok da cosa lo capisce proprio lo capisco intanto dal fatto che in tutti i documenti è riportato come arcaico poi risale a una fase proprio vado a prendere gli appunti specifici su questa cosa qui va bene io leggo qualche altro commento off topic nonostante io batta i siti batta brutto come termine specializzati fin da quando ero ragazzino continuo a trovare articoli di fausganger o altri da te tradotti come sempre c'è c'è una g troppo serve fausganger fausganger scusami perdono la mia ignoranza chi è fausganger forse l'avrò sentito però non mi ricordo allora è un linguista di mestiere che si è dedicato allo studio delle lingue elfiche tolkieniane sia tedesco austriaco norvegese norvegese negli anni 90 già aveva pubblicato un sito dedicato appunto alle lingue di arte che si chiama Ardalambion un nome il titolo con una frase allora conosco il sito il sito lo conosco a che appunto come dicevo prima è la causa di tutti i mali perché io mi ci imbattei mentre cercavo tutt'altro vidi quanto era ricca questa parte linguistica cominciai a a spunciarmela e non ho ancora finito ok ah eccola qui eccola qui ma è anche in italiano la pagina di Ardalambion vedo eh sì non tuttissimo ma non tutto va bene quello che sono riuscito a metterci l'ho fatto poi e poi un'altra domanda prof sì Johnny ci chiede visto che Tolkien durante la guerra di Trincea ha avuto la possibilità di incontrare indiani pakistani tunisini marocchini esistono parole in Arda ispirate a lingue extraeuropee sì sì ne esistono ne esistono anche in Quenia cosa mi sta succedendo qua ok che succede mi era comparsa una finestra strana allora sì diciamo questo fatto di prendere più o meno coscientemente a prestito parole anche extraeuropee è una cosa relativamente frequente negli scritti di Tolkien ma secondo Christopher Tolkien per la maggior parte delle delle occorrenze diciamo si tratta di casualità per esempio sto andando a spulciare nel frattempo leggo qualche altro commento sì allora c'è Alataria bellissimo che dice ci scrive Anar Kaluvatirian il sole brilla sul tuo cammino il sole prendrà sul sul tuo cammino esatto sì questo è è un augurio sì è è una sorta di buona fortuna possiamo considerarlo un buona fortuna è un saluto elfico che si trova nel nei racconti incompiuti nella prima parte Anar Kaluvatirian bellissimo Anar Kaluvatirian Anar Kaluvatirian va sulla prima sillaba sì perché sono tutte brevi Anar Kaluvatirian esatto va molto meglio Anar Kaluvatirian su una più blu invece Anar Kaluvatirian vedete già solo cambia l'accento da una sillaba all'altra diventa molto più sonoro e melodioso l'analisiamo facciamo precisissimo Anar trasparentemente il sole Kaluvat abbiamo visto sappiamo già che il futuro di Kal splendere brillare desinenza uva quindi ecco Tie c'è un'inversione fra la I e la Y perché sentiero cammino sarebbe Tie con la I possiamo considerarlo prego prego continui l'IA con la Y sarebbe tuo quindi il tuo sentiero e NNA è la desinenza di luogo quindi su sopra ci dice Alatariel che è un vai uomo più elfico può andare vai uomo buona fortuna la prendiamo così in attesa di codificare il vero vai uomo ok va bene c'è Rick c'è la lingua che la lingua si è ispirata all'urrita un antichissimo dialetto sumero ci sono certe somiglianze fanologiche semantiche impressionanti e chi lo sa ragazzi chi lo sa io non mi ricordo che ci siano non mi pare che ci sono riferimenti specifici a questo tipo di dialetto però tra le varie lingue che Tolkien ha creato ci sono tanti vengono palesate tante ispirazioni tanti riferimenti professore lei appoggia ah questo è un altro dibattito che abbiamo fatto con Riccardo e Paolo in una delle sedute di Silmarillion ci dice Riccardo professore lei appoggia Nargotron o Nargotron ci serve saperlo per dare le letture come del Silmarillion Nargotron o Nargotron a parte che Nargotron la TH va pronunciata in questo modo sì sì è una spirata questa è una cosa che ho sempre fatto dal primo video che ho fatto perché è una delle cose che mi è entrata in testa fin dall'inizio Nargotron o Nargotron ecco noi abbiamo detto tutti ma è compreso Nargotron da un certo punto in realtà dato che la prima O è seguita da una consonante doppia perché il suono TH è la R tecnicamente è lunga quindi essendo la penultima prende l'accento Nargotron ok Nargotron ok esatto dobbiamo abituarci Nargotron da Orodruin Orodruin prendiamo per buono per buono prof ci dice Nargotron quindi dobbiamo dobbiamo pronunciarla in questo modo Taniquetil eccetera non mi ricordo Taniquetil quella io all'inizio pronunciavo Taniquetil poi dopo un po' inizio a pronunciare Taniquetil comunque va bene ragazzi allora direi che abbiamo detto abbastanza dai abbiamo sviscerato quello che volevamo sviscerare stasera è stata una delle lezioni più belle anche perché prof per la prima volta non abbiamo avuto un solo problema questo è un miracolo è un miracolo e speriamo che una volta assodato questo setup del prof non avremo più problemi questo lo speriamo vivamente siamo partiti da quando il prof era nel piano inferiore se non ricordo male la connessione andava in live siamo arrivati ad avere un prof che ha una connessione perfetta con un audio che è migliore del mio quindi meglio di così ragazzi non si poteva avere infatti stasera ho visto anche molta più interazione con la lezione questa era una cosa che immaginavo ovviamente se l'audio come disse anche al prof nelle volte scorse se l'audio non è godibile ovviamente è ancora più difficile seguire una lezione che è già ostica di per sé per l'argomento trattato quindi dato che ormai la qualità una qualità maggiore di questa non possiamo aspirare spero che sia anche le scorse lezioni ma soprattutto le prossime saranno e questa che abbiamo appena fatto saranno molto più godibile per voi tutti e da seguire ovviamente sempre con l'aiuto dei testi e allora festeggiamo in Sindarin Eglerio Eglerio che sarebbe viva eglerio sarebbe sia gloria glorificata è una delle esclamazioni di festa del campo di Cormallen quando Frodo e Sam vengono presentati un po' più diciamo ricostruiti esatto varie esclamazioni in Quenny e Sindarin di Gioia tutte in Elfie che c'è questa Eglerio Eglerio stasera tutto bene stasera tutto bene speriamo che sarà così anche per le prossime lezioni che probabilmente tranno a fine febbraio dato che faremo passare comunque un mese come sempre da una lezione all'altra va bene allora ragazzi io inizio a ringraziarvi grazie a tutti voi venite su Discord bravo Gianmarco mi raccomando su Discord non perdiamo la presenza sul disco che è importante non solo per quella serie ma è importante sempre e poi voglio chiudere con un bel messaggio di Mastro che ci dice io prof tendo a salutare così ogni sera quando finiscono i live mi hanno detto che è un Quenny a particolare o mi sbaglio e ci scrive Maramesta Annivela Tiento Yaratonea che vuol dire buonanotte grazie professore Frank è così sì diciamo questa è una preposizione che non è ancora Quenia ma lo comincia già a diventare è una frase molto celebre la preposizione artica se non vado errato che quindi non compare nel materiale della terra di mezzo ma riecheggia già un qualche cosa che poi diventerà l'alto elfico adesso diamo anche qualche ragguaglio ulteriore nel frattempo le danno pure un consiglio che io appoggerai tantissimo scrivere un libro solo sulla disposizione degli accenti tonici nei nomi di Tolkien non sarebbe impresa inutile forse un libro no magari un articolo un libro forse è un po' esagerato io preferisco darvi la regola e poi magari la discutiamo assieme va bene professore prof allora facciamo una cosa questa è una cosa che servirebbe molto anche a me che io nel leggere i nomi durante per i video facciamo una lezione le propongo la prossima lezione facciamo una piccola pausa dalla grammatica quenia elfica e proviamo a fare una lezione dedicata agli accenti e alle pronunce solo accenti e pronunce che dice professor? possiamo anche non chiamarla lezione nel senso facciamo una serata in cui si chiacchiera di accentuazione mi portate i vostri esempi e li vediamo tutti però no perché altro già solo dire magari fare una piccola lista di tutti i casi nel senso che prendiamo varie parole ad esempio e facciamo in questo caso l'accento va su questa sillaba per questo questo e questo motivo ad esempio fingolfi perché fingolfi perché fingolfi e non fingolfi questo è una è un qualcosa che potremmo spiegare quindi prendiamo vari casi magari varie situazioni noi poi magari sceglierei i nomi che più le le trova adatti e potremmo fare questa lezione perché secondo me potrebbe essere veramente molto estremamente utile molto pratica e molto utile che dici? si fra l'altro fingolfi ha anche una storia particolare perché appunto è un nome che precede la costruzione delle lingue elfi che chiamiamole moderne più recenti quindi non sottostarebbe a questa regola però visto che viene comunque mantenuto e trasposto in sindarin a quel punto prende la regola di certunzione dell'elfico ordinario e quindi dato che la o è la penultima vocale quindi la penultima sillaba ed è seguita da due consonanti è una sillaba lunga prende l'accento fingolfi ok però magari facendo una disamina un po' più graduale un po' più specifica insomma mi piacerebbe fare una cosa del genere e la facciamo mettendo insieme anche le pronunce proprio semplici tipo quella th aspirata spiegare come fare alcuni esempi su quelle cose magari potremmo fare una cosa e poi magari inserire queste cose in una frase insomma e combinare sia il quenia che la pronuncia e le accentuazioni secondo me potrebbe essere una cosa buona quenia è anche il sindarin naturalmente perché nargotron è tipicamente sindarin va bene allora prof ci impegniamo a farla per la prossima volta che dice così prendiamo anche una piccola pausa dalla grammatica ok quindi sospendiamo un attimo il corso ci facciamo una seratina così perfetto ma lo segno la gente la gente a casa vedo che comunque è già idea magnifica utilissima ci dice anche Riccardo anche Davide sono d'accordo sono d'accordo va bene ragazzi allora faremo così va bene allora ragazzi io vi ringrazio ancora tutti ci avete dato anche un'idea per la prossima volta quindi torneremo probabilmente con le lingue elfiche fra un mese quindi circa a fine febbraio e prof io la ringrazio come sempre per aver passato anche questa serata con noi per averci istruito ulteriormente sulle lingue elfiche mi raccomando ragazzi recuperate i libri di testo per il corso mi raccomando li trovate su Amazon disponibilissimi quindi mi raccomando su IBS direttamente dall'editore l'arco io il primo l'ho presi su Amazon tranquillamente quindi lo trovate tranquillamente sono tutti tranquillamente disponibili va bene allora noi ci vediamo quindi fra un mese per i prossimi appuntamenti esce un video del lettore e commento domenica questa domenica qui poi uscirà un altro video normale probabilmente questo martedì e un altro giovedì forse due video la prossima settimana e poi la live venerdì prossimo probabilmente però venerdì prossimo facciamo una bella live insieme a Paolo insomma già ho un'idea di cosa proporvi prof noi ci vediamo per la prossima lezione fra circa un mesetto con questa idea che ci avete dato voi vi ringrazio ancora perché effettivamente non ci avevamo pensato ed potrebbe essere molto utile quindi io vi auguro buonanotte Hanon Lemelin lost or mine grazie Erwin Erwin mi mando un bacione un saluto e alla prossima ciao ragazzi ciao 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 buonanotte